Un giorno molto importante, gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi, non su questa terra però, ricordate, no, parte la battuta. Io, da dire, ho poche cose, cose importanti e un ringraziamento, perché se ci sono queste cose, bisogna ringraziare la collaborazione a 360 gradi in tutto, disponibile in tutto, e un sacrificio, passione, amore, cioè non c'entro solo io, c'entro a un'equipe. E ora il Presidente, il Centro Mugli, che ringrazio, ringrazio il piano sindaco, ringrazio Paolo Cavicchioni, la Tiana, ringrazio, che non lo vedo, mi dispiace, anche Fausto Ferri, che è stato il primo ad arrestere qui nella mostra dell'Amerito del 68, e, dalla mia impressione, l'estisci anche l'ultima, che è questa, e spero che non sia l'ultima neanche per me, però, no? E poi ringrazio Lorenzo, che per professionalità, supporto, disponibilità e tutto il resto, e così per tutti, ringrazio la Eidos, che è la vita che ha stampato, con grande passione e fedecia, e per stampare la qualità, bisogna vivere le armi, questa qualità. L'Arte Color, la Viggo Glacchio-Valcani, e Parini, che ci ha fatto ogni accattato, e ringrazio voi che siete presenti e ascoltanti, e durante il vostro tempo, io compro il cambio di domenica, e spero che la vostra visita sia di soddisfazione, e così, mi ricambiate alla gioia, che spero di dare, una cosa di buona vita, con tutti il meglio, ok? Potete battere le mani? Grazie.